Allora, questi sono i racconti che ci fanno piacere, da veri calciofili, da veri appassioni di calcio, per questo io invito delle memorie storiche, ma adesso dobbiamo attivare la nostra memoria storica, come aveva annunciato prima Stefano Ravaglia, per quanto concerne una nota dolente nella storia della Juventus, vale a dire a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, e lui si chiamava Juan Eduardo Snyder, era argentino, aveva origini spagnole ed anche tedesche, fece molto bene nella Liga, in Italia diciamo che è stato una meteora per fargli un complimento. Allora, vengo da te Fabio, poi ovviamente visto che l'hai introdotto, lo faccio commentare anche a Stefano, la prima cosa che ti viene in mente nominando Snyder, a me te la dico. Facile, vai tu però facile. È quando praticamente c'è la telecronaca di Riccardo Cucchi e lo nomina in quel di Perugia, 14 maggio del 2000, che sancisce lo scudetto della Lazio. L'associazione al calcio italiano di Snyder è principalmente quella, 16 presenze per lui con la maglia della Juventus, 0 gol, ma prego Fabio, raccontacelo perché ho anche io qualche aneddoto, ma avendolo recensito te per primo, hai il privilegio di partire. Eh sì, ma introduco solo ecco, hai fatto bene a parlare di questo flash, perché comunque sia, e Snyder è quello che poi aveva la palla, se la fa soffiare da Materazzi, Materazzi va verso la linea di fondo e finisce la partita, come racconta il buon Riccardo Cucchi. Lui personaggio insomma particolare, perché poi come hai detto bene tu, era arrivato anche con discrete credenziali, lui era stato anche all'Atletico Madrid. Intanto ti interrompo, questo è un gol pazzesco, in una circostanza importante, perché era la finale di Coppa delle Coppe di Parigi, tra l'Arsenal e il Real Saragossa, qui militava nel Saragossa. Sì, che è quella poi del gol, quello che prese Siman di Naim da 350 metri, tipo esatto, esatto. Era proprio quello e quindi lui fece la sua signora carriera, però in quell'anno, quella fu una stagione particolare per la Juve, che loro partirono dall'Inter Toto per cercare poi di arrivare avanti. Poi uscirono in Coppa UEFA, mi sembra i quarti di finale, una cosa del genere. Lo scudetto sembrava già cucito, invece subirono quella rimonta clamorosa. I gol di Snyder a fine stagione servivano, perché erano arrivati anche un po' corti. C'era Del Piero, che aveva il problema, che non segnava più sua azione. Fece l'unico gol in quel famoso Juve-Parma, che poi finì col gol di Cannavarro e tutta la polemica che ricorderete. E poi c'è quella partita lì, e sì, hai detto bene tutti. Ti faccio continuare da lì, perché comunque è un ben ricordo, no? Diciamo che i gol dalla panchina li segnava ogni tanto Darko Kovacic, ma era principalmente giocatore di Coppa, perché fece bene in Coppa UEFA nel 99-92. Ah, una nota dolente, ma questa è un'altra storia, ne parleremo più avanti, in un'altra puntata. E Snyder fu comprato dalla Juventus nel gennaio del 99, proprio per ovviare all'infortunio gravissimo patito a Udine da Alessandro Del Piero. Quindi fu quella la funzione dell'acquisto del centravanti argentino, che peraltro non era l'indiziato numero uno ad approdare a Torino. Perché Moggi aveva sondato anche la possibilità di prendere a Gansukur. Io questa cosa me la ricordo perfettamente. Stefano? Scusate ragazzi, io mozione d'ordine, voi... Solo, no, sì, ok, mozione d'ordine, commentami al volo Snyder e poi... No, no, non c'è molto da commentare. Anche Moggi si ha fatto qualche toppa ogni tanto. Non era la sola, ma... Ragazzi vi devo salutare, siete stati... No, Riccardo. Ciao Riccardo, grazie. È un piacere stare con voi. Ciao, alla prossima. No, infatti tu hai fatto vedere questo gol qui perché prima di iniziare la diretta io ho avuto un po' due o tre cose a proposito di autismo calcistico. Sono tornato addirittura indietro a vedere Arsenal-Sandorio alla scena di io no speak English con Paolo Villaggio che è ad Ivory perché l'Arsenal arrivò in semifinale battendo la Sandorio ai rigori, eccetera. Poi ci fu questa finale incredibile, ricordavo il gol di Naim, ma non mi ricordavo che l'aveva fatto, il primo l'aveva fatto Snyder. Lui tra l'altro... Peraltro bello, peraltro bello. Sì, molto bello. Ma tra l'altro sembrava avesse anche un altro fisico perché alla Juve mi sembrava anche un po' appesantito, lento, macchinoso, eccetera. Tra l'altro lui rifiutò, quindi siamo nell'estate del 2000 e poi credo che andò via poi in realtà con l'anno lì, però lui rifiutò il Celtavigo con grande sorpresa della dirigenza della Juve perché erano convinti di sbolognarlo finalmente via, farlo tornare in Spagna. Invece lui dice no, io con questo Celtavigo non parlo più perché non abbiamo trovato l'accordo, io voglio stare qua, sono concentrato sulla nuova stagione della Juventus, eccetera. Lui arrivò dicendo che voleva vincere la Champions League, ma non ci si avvicinò nemmeno. aveva fatto bene in Spagna, avete detto bene, e soprattutto al Real nel 91-92 lui aveva, mi sembra forse... Più atletico che il Real, più atletico perché... Sì, poi più assolutamente più atletico. Lui fu preso dal ferro Carrilla che era una fucina di talenti all'epoca credo in Argentina e in quel Real Saragozza c'erano altri, dato che facciamo sempre le liaison, altri due giocatori. Uno era Pardezza che era il capitano che faceva parte della quinta del buitre con Mitchell, eccetera, eccetera. E poi c'era Gustavo Poiette che andò al Chelsea. Bravissimo. Giocava nel Real... Era anche Marco Scafù ma non giocò a quella finale. Esatto, esatto. E gioco che c'era Gustavo Poiette. Quindi, insomma, è un... Poi lui arrivò anche insieme a Henry, eh? Lui, lui, nell'anno in cui la Juventus aveva anche Thierry Henry, sul quale invece poi la Juventus si sbagliò clamorosamente. Anzi, sicuramente per una questione tattica, perché Henry giocava praticamente, gli facevano fare la faccia, credo, invece di farlo giocare più vicino alla Polo. Purtroppo però io e Fabio Belli ce lo ricordiamo bene, perché l'unica partita che ha indovinato in Italia... Per mia, insomma, gioia, perché, insomma, essere soddisfatti di una vittoria della Juventus è molto, molto, molto raro. Però fu un passo importante per lo spuglietto del Milan. Quello fu incredibile, veramente. Ma questi sono... Questo è il calcio e questo. Noi seguiamo il calcio per questi motivi qui. Che Henry che fa doppietta, perché fece doppietta, se non sbaglio, no? Sì, uno con Papera Glamorosa di Marcheggiani, ma lui fece anche un altro gol in Italia contro il Venezia. Però diciamo che quello è stato il suo non plus ultra in Italia, perché poi complice un equivoco tattico nella gestione di Henry Henry da parte di Carlo Ancelotti, lui alla Juventus fece male. E venne ceduto un po' troppo frettolosamente. Diciamo che per motivi opposti la Juventus quell'anno lì, non che forse con Del Piero sarebbe segnata diversamente, non lo so. Però per ovviare con l'infortunio a Udine di Del Piero furono fatte queste cose. Henry, credo, arrivò a gennaio anche lui. Non mi ricordo se arrivò a gennaio. Arrivarono praticamente insieme. Sì, sì. Arrivarono insieme. No, comunque Snyder sì. Però per quanto riguarda Snyder, questo me lo ricordo bene, che Henry comunque era un affare che esulava da tutto quanto, però prima di comprare Snyder c'era un imballottaggio a Gansukur e mi ricordo che la Juventus provò anche a tesserare Rapaic che all'epoca a Perugia era un giocatore che andava per la maggiore. Sì, sì, sì. Assolutamente sì. Ma lui e Snyder, non so, mi sembrava, se non ricordo male, proprio lento nei movimenti. Era quell'epoca in cui poi ci fu un periodo che arrivò della gente dalla Spagna come fu un po' due anni dopo, Giavi Moreno al Milan che era stato capocannoniere in Spagna col Deportivo Alaves e da noi non era piantato per terra, non si muoveva, c'erano degli altri ritmi. Evidentemente venendo dal di là era un'altra cosa. Per cui fu una parentesi sfortunata per la Juventus, ma lui non aveva fatto male in Spagna, ma non è che poi sia stato così. Lui poi è andato in Argentina, credo abbia chiuso la carriera al New El Sol Boys, una cosa del genere. Ma che poi diciamo che lui era un ottimo attaccante, uno di quelli che nella Liga Spagnola si è reso protagonista, però bisogna dire questo ad onor del vero, per chi ci segue, non era Fernando Morientes per fare un esempio. No, ma non c'erano altri ritmi all'epoca, lui fa bene nella prima parte degli anni 90 in Spagna, che noi lì andavamo a velocità doppia, c'era ancora il Milan de Sacchi e de Capello, che era una cosa che era il Madrid, gli faceva cinque come l'acqua fresca, dai ragazzi. Ma che poi lui la sua miglior stagione la fece nel 96-97 con l'Atletico nell'anno post-doblete, quindi... Che l'Atletico arrivò ai quarti, il progetto di Ajax, arrivò ai quarti con l'Ajax, che perse 3-2. Esatto. Poi l'Ajax perde con la Juve, che perde con il Borussia Dortmund. Buona vita. Grazie a tutti.